Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo il carne di rostro medievale con la sauce cammellina dell'Opusculum desaporibus, una scuola scritta nel XIV secolo dal fisico meno i mainiari. Iniziamo con gli ingredienti. Necesitiamo una piccola cucina, pane, lard, grape non ripi e cinnamone. Prima parboiliamo la cucina per 10 minuti. Per rostrarci il cucina stiamo usando un'altra sorta di 14 secolo, anonimo in questo caso, chiamato Tractatus de modo preparandi et condiendi omnia cibarium. Come il titolo suggerisce, questo è un trattato che presenta le tecniche di cucina extensivamente, come i metodi e gli ingredienti per le sauce, con, in aggiunto, molte ricette per le preparazioni più comuni medievali. In questo caso, il testo suggerisce molti metodi di cucina e il modo di servire, un tema che l'autore della sauce, Minus, dà per garantito. Mettiamo l'olio. Mettiamo l'olio. L'olio era il grasso di cucina più comunale nel medioevo, sostituito nei giorni di legno con olio di olio. Se preferite, usate olio di olio invece, o la batteria come l'autore del Tractatus suggerisce. Mettiamo l'olio sull'olio e lo ricordiamo nell'olio. L'olio, inoltre, è uno dei tipi più comuni di carne nei ricordi medievali. Trovate i link a una selezione di ricette nella descrizione sotto. Aggiungiamo l'olio per circa mezza un'ora, ma il tempo di cottura può cambiare davvero per un peggio più grande. Qui stiamo usando un peggio piccolo perché la ricetta per la sauce è definita per i peggio e i piccoli piccoli, come scritta Minus. La maggior parte delle ricette, nell'Opusculum, i saporibus, inoltre, sono definita per molti tipi di carne o peggio, e Minus suggerisce tutte le varianze possibili nel libro. Inoltre, prepariamo la sauce. Prendiamo le crepe, prendendo attenzione non per bruciare le sede, per evitare che il giusso abbia un gusto bitter. Le crepe non ripi sono un ingrediente comunale nelle ricette medievali, come rappresentate da Ateneus, usate esattamente nella stessa modo. L'avvento di usare le crepe non ripi o il giusso, chiamato nei texti medievali, agrestum o omphatum, inoltre, è originale greco. Seguendo la tradizione medica medica, Minus suggerisce di usare le crepe non ripi nel vero, vino e vinaigre nel vero, per fare questa ricetta. Altri sostituti possibili per le crepe non ripi nel vero sono il limone e il giusso di orano o il vino di pomegranate. Se non siete interessati in seguire l'avvento medico medico, sentite free di usare il vino misto con un po' di vinagre, anche se stiamo preparando questa salsa nel vero. Abbiamo sbagliato la crepe nel giusso di crepe. Abbiamo usato il pane preparato con olio bianco e sangue, considerato il miglior tipo di pane dai medici medievali, ad esempio Michele Savonarola. Un po' di domenica abbiamo scocato il pane di pomegranate, preparato con la stessa metodo come questa. Trovate il link al video nella descrizione sotto. sotto. Poi incontriamo nel mortaio una buona quantità di zucchero. cannella. Questa salsa è chiamata la salsa cammellina, da cannella, che significa cannella. Ci sono molte varianze di salsa cammellina nei ricicli medievali, alcuni molto complessi, e l'opusculum descrive uno differente per i pezzi. In ogni caso, la più importante è una grande quantità di zucchero, per dare il suo colore tipico e il sapore. miglioriamo il cannella con il pane di pomegranate, aggiungendo più di zucchero, se la salsa troppa troppo. La salsa per questa ricetta, l'opusculum desaporibus, è un libro corto che collezza informazioni importanti sull'opera modo di preparare le sapore e di usare i sapore nel modo più sano possibile. Il principio in questo testo, inoltre, appena in molte ricette medievali, ma Minus propone non solo i metodi, ma anche i principali medici che constituono la base teoretica per la ricetta medievale. Nella nostra pagina Patreon trovate il tutto il testo tradizionato in inglese e un articolo sull'autore e il suo lavoro. Quando il cuore è fatto, lo cortiamo, seguendo la direzione del Tractatus demodo preparandi ed condendio omnia cibarium. lo cortiamo, poi i piedi, il cuore, il cuore, il cuore, il cuore inoltre. L'autore anonimo dice il cuore, il cuore inoltre, il cuore inoltre, il cuore inoltre, il cuore inoltre. Ma se lo preferisci, lo puoi salire prima di cuore inoltre, e poi salire la salsa anche, il cuore inoltre, un metodo che l'autore utilizza in altre ricette. Sprezziamo il cuore con il salto e lo accettiamo con la salsa. La salsa di cinamone è perfetta con il cuore. Le gravi non ripi, con la piccola acidità, rendono il sapore di cinamone migliore e ben blendati con gli aromati del cuore e del lardo, con solo un po' di dolce. Il fatto che il salto è mixato con la salsa rende il sapore generale più complesso, con ogni bite un po' differente dagli altri. Sicuramente un eccellente e diverso per provare uno dei piatti più popolari nella storia del cuore da l'antiquità fino ad ora. Se siete interessati con i fratelli antichi e i sapori o siete cercando delle ricette inusuali e delizie sottolineate sul canale e considerate di supportare noi sul Patreon dove troverete una volta una settimana un nuovo articolo sul cuore storico e una volta un mese una storia storica tradizionata in inglese. 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 in inglese.